Ora, qua io sono un po' di parte, perché dentro c'è qualcuno che conosco, per cui... A voi sposi, cosa dire? Siete l'esempio, siete le fondamenta delle vostre famiglie. È stupendo rendere merito a chi porta avanti con rispetto e redizione verso il proprio compagno o compagna un percorso di vita che sicuramente non è sempre semplice e facile, ma al più delle volte è tumultuoso e difficile. Non ci si arrende, questo mai, perché sarebbe troppo facile. Si respira, si ricorda sempre che il rispetto o l'amore sono alla base di ogni rapporto. Si sorride e si va avanti, perché quando ci si guarda negli occhi, anche dopo tanto tempo, si vede riflesso il proprio sogno di vita, condiviso con la persona che ci completa da sempre. Perciò io vi dico, guardatevi negli occhi. Non vi chiedo di... C'è, non guardare così sacrificato. Ti ho fatto piangere, Gioia. Ti ho fatto commuovere. Bene. È bello commuoverti tanto. Però io credo molto nel matrimonio e credo che sia doveroso immaginare chi si vede. Continua a prendere ogni giorno l'impegno e la frustanza con la persona accanto. È facile dire, va bene, basta, cambiamo. Ma non è così. Non è così. E penso che vuoi dire. Bisogna soltanto pensare che siete delle brave persone, siete rispettose, ma siete veramente l'esempio di una comunità di cui esaggiamo. Ok?